Radio Radicale siamo con Caffiero De Rau dopo la Commissione Giustizia di oggi. Allora, onorevole comandata, innanzitutto come avete votato per il garante dei detenuti? Abbiamo votato così come... Avete votato la Terna? La Terna. Oh, capito. C'era stato qualche problema per la votazione della Terna? Insomma, voi sostenevate il professor Serio? Sì. Quindi avete votato con la maggioranza d'Ettore Serio? Sì. Senta, le volevo chiedere sulla prescrizione, come avete trovato l'accordo che è stato raggiunto per il mandato arrelatore? Noi per la verità, sulla prescrizione in generale, siamo stati contrari. Ho capito. Quindi ritenete che sia un errore per correre la strada di questa riforma? Sicuramente, sì. Sicuramente. Anche perché è contraddittore in diversi punti, così come dirò in dichiarazione di voto. E il 6 novembre vai in aula? Sì. Ok. Grazie, professor. Grazie.